Io sono contrario al nucleare, perché le centrali durano solo 40 anni e sarebbero in grado di fornire solo il 5% del fabbisogno energetico mondiale. Dicono che non ci sono dubbi sulla sicurezza e sulla radioattività. Ma l'ambiente viene contaminato e chi lavora e vive vicino a una centrale ha un aumento di probabilità di ammalarsi di tumore. Gireranno molti soldi. O forse è solo una grande mossa di speculazione finanziaria. Il nucleare ha il peggior rapporto costo-chilowattora prodotto. Il nucleare è un'opportunità per il paese. Io sono favorevole al nucleare. Perché i miei figli tra 50 anni non potranno contare solo sui combustibili fossili. E tu sei a favore o contro l'energia nucleare? O non hai ancora preso una posizione?